Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi se non siamo con il signor Dumbo però siamo la signora Sofia, però di colore sbagliato perchè non è disponibile il nostro colore, che sarebbe il rosa perchè noi siamo la signora Sofia, con sta navicella tipo che ci segue chi è l'host della lobby, dobbiamo parlare, si stiamo qua tutto il giorno vabbè stiamo per iniziare però adesso, siamo stati qua 7 ore però, se non è facile ah mettete 2 impostori se non è facile, no meglio 3 ma se qualcuno ha FK e non vota possiamo stare così a vita ad aspettare, esatto ma Pizza dove sei uscito tu? bheh, comunque stiamo iniziando e questa è una grande cosa non so più cosa dire 3 anni ci vogliono per caricare siamo l'astronauta quindi il crewmate si ha, no l'impostor però siamo scienziati e quindi possiamo vedere le persone quando sono morte che ora ancora non è morto nessuno, per fortuna aggiungerei qua non abbiamo la task, noi dobbiamo andare direttamente in electrical però direi di prima, di prima si perchè io non parto di prima di solito io parto già di seconda direi di andare a fare la benzina perchè ce l'abbiamo proprio qua ma ora mi hanno sabotato l'ossigeno e io continuerò a fare la benzina perchè secondo me ma perchè? perchè? meno male che hanno visto tutto blower engine dove 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 dove? chi me l'aveva fatto richiesta dove io ok voi quindi non ha visto niente lei di cosa stavi facendo lì motore inferiore ha detto ma non hanno visto un cazzo non ci posso credere io chi mi ha ucciso? io non manco lo so forse il verde proprio no oddio mo non mi ricordo chi mi ha ucciso forse dopo boh vero come sei gentile e in comunicazioni comunque raga giusto per dirlo io ho spazzatura e scudi quale verde quindi chi votiamo essendo tre impostori le visual non contano niente e chi te l'ha detto cosa sono le visual? ah è quello che fai quando pubblici il tiktok da trenitalia mi raccomando andate tutti a seguire i disagi trattino basso trenitalia su tiktok per ricevere tanti aggiornamenti sui ritardi semmo quello boh intanto non lo so che dobbiamo fare non hanno votato un cazzo di nessuno e quindi stavamo a posto così intanto noi ritorniamo a Roma raga non vi preoccupate schifo ma perchè? perchè? mi devono fare sempre queste cose a me io devo sempre morire per prima perchè mi chiamo sempre Sofia a me mi chiamo sempre molto bello among us cosa sta sull'X sull'iPhone X madonna e che rumore che fanno sti motori noi ci compriamo l'iPhone X raga a gennaio 2025 non è vero eh perché ci credete pure no hanno sbossato uno eccolo l'impostore extra style ci sta pure Lady Mary che sicuramente no ha trovato il Detective Conan è molto Dio Vesuvio dove 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 raga o asteroidi rosso safe ok raga ci sono dove? venite in quattro vengo io nero DOP e SUS pure secondo me vengo io nero rosso ha fatto rifiuti sul condotto 9 no giallo crema e DOP mi hanno visto fare spazzatura ne servono altri due non fa né tasca né emergenze qualcuno è ingegnere DOP o ID ne bastano tre che ti vedano pizza safe per scambolo scan ma chi viene da steroidi oltre a lime e rosa io non sono ING mi manchi sono ING ero scienziata penso fino a quando mi ammazzavano skip raga è il gioco mongo me ne serve ancora uno dai cacchio DOP l'ingegnere sono io nero vengo pure io DOP dopo veniamo da te ti sei fregato da solo prima nero mi ho detto che andavo io DOP paese non che ero ING DOP sono due forze ING non è detto che è ING quanti sono ok tutti quelli che lo hanno detto venite a vedere aspetta venite a vedere asteroidi allora bianco tu invece skip un ingegnere mi sembra ah ok pochissimo quindi che dobbiamo fa noi mariamo sempre per prima ed ora ci dobbiamo fare tutto il video da fantasmi che siamo stronzi noi e non ci fate tagliarlo perchè la qualità da noi deve essere sempre più bassa possibile perchè sennò manco ce li guardiamo i video di franghop se li edita franghop i video non vengono guardati eh 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 perchè la qualità poi aumenta l'impostore è questo qua pupo eh vabbè sto laggando è questa extra sale ah mo l'ho uccisa pure a pazzesca e mo ci va i dei oski e quando ce va questo mo ci va questo popolo oski e invece va in security ah è lui l'impostore perchè se passi da qua forse non lo vedi infatti non lo vedi l'ho visto dopo forse non lo vedi dove reactor io safe per asteroidi dove ho finito le tasche sta pure il deodorante dove non lo so se voi lo usate che cazzo di domanda che faccio pure io comunque scrivete sotto nei commenti se ho usato il deodorante dove mi raccomando eh vabbè vabbè ma tanto noi non vi dovete proprio preoccupare perchè noi stiamo proprio fuori di testa non lo so che stanno a scrivere anche a pizza niente lady abbiamo visto dopo i tre votiamo extra e chi vogliono votare ha chiesto extra l'ho scordato da lady prima si è ok bordo hai scan si aspetta che risponde tanto questi stanno tutti fuori di testa qua tanto questi stanno tutti fuori di testa qua e possiamo stare qua tutta la giornata allora i dagli oschi i dagli oschi cagataone ahahah ecco il detective che si venta ehi tutti qua stanno eh ci credo che allora dura 7 anni sta partita saure pizza extra sale lady mary pupolo sky mo eccola qua lo sapevo io l'hanno vista però il rosso ha visto tutto ha visto morire i dei oschi sgozzato da extra sale che scrive io ho finito gli incarichi dove raga bordo a killat in sec a safa finite task anch'io meno uno io ho anche finite le task qualcuno ha visto bordo altrove dai votatelo sarebbe extra che scalzi sto imp eh si scalzi le palle su 10 minuti non l'avete beccati si sarebbe extra eh meno male quando ho capito ok votiamo extra che entra che senso a killat e stava per ventare ha ventato a casa mia però bordo extra sale ah ma extra è il nome extra è qualcosa da dire cappello da gatto rosa madonna questi stanno proprio come fusi ma minchia muta l'ho detto a bordo mi hanno chiesto anche il nome xd 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 mo mi insultano che ho scritto xd 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 e uno ho scritto lol e vabbè e vabbè e vabbè meno male che hanno buttato fuori extra sale ah i fondati mi possono passare attraverso le porte che bello sono diventato una porta i fondati chi sono gli altri due bh9 ahah ma scusatemi ma il bruno è l'imbostore Ma che cazzo ha visto Dop Ah ma non era lui No vabbè Ma porco No non posso più aprire la chat No non mi dite che non era il signore extra Cosa là Dop è safe Eh ma l'ossigeno qua chi lo fa Eh vabbè è morto pure il rosso Ma non ho capito Se era lui l'impostore Pensate si comunque Lo sapevo Allora ho detto Bianco Cristo il Dio Non mi ascoltano Bianco è il bro Si ma ho id Porca No vabbè tutti safe Siamo tranne loro Chi è entrato per ultimo in infermeria Stavano 3 o 4 in infermeria Raga potremmo di nuovo andare ad esclusione Visto qualcuno Il bro l'ha dato per safe dopo Ma dopo è safe Vabbè mi hanno vinto valese Vuoi vedere che votano giallo Che palle Eh ma dopo come l'ha visto fare A steroide al bro Beh Eh beh Tra l'altro Ho capito solo adesso che questo si chiama Oidoc Ok no Però Leggete al contrario Non mi fate sapere Perché sei tu bianco No 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 top Se vabbè non è A chi hanno votato Al bianco Secondo me è lui infatti Dagli un po' Dagli Dagli Roma Ma no Sto scherzando Forza Napoli Ah 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 NEW Già l'ha entrata dopo, vado bianco, siiii Ah 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 Guarda il signore con i baffi, è quello che va a casa, non posso dica fatto, muovono giallo sicuro dopo, ovvio dicevo i doc però Ah qua sono morta io, penso, sono morta qua, guarda che sono morta più giù però, guarda qua sono morta, electrical, no dove sono morta io, qua, si qua sono morta, e allora uno c'è la macella, guarda la mia, ma chi è che non fa task, io l'ho fatta, siiii, cerchiamo di non fare la freccia sull'altro schermo, perchè mi va dritta dritta sul cosa, sul bottone quello per chiude, sulla x dai, eh raga se siete fantasmi fate le task, fatte eh ma questo non so capace, quello, forse sono vivi, sono vivi, torta la protegge la gente, dice il signore oid, oid, o, cro, oh mio dio, sto mori veramente, secondo me a questo punto è proprio il detective l'impostore, non vorrei di però, e allora è il bro, è il bro raga, è il bro, o è pizza o è il bro, perchè il detective non penso task finito, eh ma tanto quelli girano insieme, secondo me è morto qualcuno, e se è morto il bro? non è morto nessuno, e invece è morto pizza, ed è il bro l'impostore si sa pau, sa, sa, ci va anche scrivere, sape, 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 rai, ah, è b 자�o verde, lo sapevo pe, pe, di nando, ah, lo stavo peitanando, ah ah ah, da glien, il signor dopo chiama l'emergenza è morto pizza lady mary l'aveva trovato e l'impostore è il bro lo sapevo era morto che casino pizza era fuori infermeria sensitivo non l'ho visto più e dai votate sto bro cacciamolo fuori così posso finire il video dio come questi sbagliano a votare sto provando in tutti i modi a dirvi di dividerli sicuro s o s io le ho finite più di un'ora fa stanno sempre attaccati ma votano già allora sicuro appunto le avete finite voi morti se eccolo ah 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 eh ma per forza oh le si no aspetta giallo bravo giallo vabbè ciao fuori giallo forza giallo restiamo uniti fuori giallo no io mi fido solo di dopo noi siamo safe da prima ma dai escudi madonna sette zitti per poco non cacciavano giallo è vincentissima sta partita chi la vincerà gli impostori o i detective o i cremate è vincentissima sta chiamano l'ho ma do ma veramente state facendo ma voi state proprio fuori ragava se vi posso ricerci la verità e qua chi altro è morto boh suona il reattore comunque con tre impostori le tasche visibili vengono quasi annullate lol ma che cazzo sta di questo eh vabbè ecco è morto nessuno conan il bro e lady mary il bro cioè conan ok sono chiusi in tre quindi non vale non muoiono non possono morire deve uccidere dopo per forza eh il bro che cosa farà il verde è da due round che cos'è il giallo eh porca puttana cazzo eh veramente il verde è pronto a schiacciare l'emergency meeting è morto oddio nessuno morirà dopo? no ok stanno ancora tutti abbiamo vinto? abbiamo vinto abbiamo vinto non ci credo pallone d'oro 2024-2025 gg raga pazzesca partita io comunque ne approfitto per salutarvi qua esco perché sennò ricomincia la partita grazie per aver visto questo video e io spero che questo video vi sia piaciuto lascia un bel mi piace iscrivetevi al channel e noi ci vediamo vediamo vi mostro pure il codice qua del giocatore rigidino vabbè con un nuovissimo video ciao 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 ciao